partiti leggero ritardo Fitos al comando a centropista caccia alla volpe con all'interno Sharp Soleil lungo la corda e Divin Tenerife in seconda linea Evora Monte con all'esterno Nabida poi a Stragalus e in coda a largo di tutti Fitos dopo i primi 400 metri di corsa caccia alla volpe a centropista è sempre in leggero vantaggio attaccata ora all'interno dal Divin Tenerife che si trascina all'interno Sharp Soleil più a centropista avanza Evora Monte con all'argo di tutti a Stragalus e Nabida a centropista ora è passata di slancio Evora Monte nei confronti di a Stragalus poi Sharp Soleil e Nabida nel tratto finale a Stragalus è passato in leggero vantaggio nei confronti di Evora Monte e sul palo a Stragalus si impone nei confronti di Evora Monte Nabida e Sharp Soleil vicini tra loro rivediamo le immagini con a Stragalus che si impone numero tre dello schieramento sul cinque di Evora Monte mentre per il terzo posto sono vicini all'esterno l'uno di Nabida e all'interno il due di Sharp Soleil quindi tre cinque il probabile ufficioso arrivo di questa sesta ed ultima corsa da Napoli e tutto per oggi a risentirci giovedì prossimo con il il prossimo convegno di galoppo Grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori grazie a tutti i nostri spettatori